I download di Immuni arrancano, male al nord, peggio al sud. Buongiorno e bentornati al Caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno alle 7.30 parliamo insieme di tematiche inerenti al mondo digitale, business e non soltanto. Oggi parliamo di Immuni perché è uscita la divisione per regioni di utilizzo di download appunto di Immuni. Cos'è Immuni? È l'app italiana per il tracciamento dei contatti da Covid-19 che abbiamo in teoria tutti sul cellulare per far sì che questo effetto ci protegga e ci avverta qualora fossimo entrati in contatto con un positivo da Covid-19. Insomma dicevo dovrebbe perché chiaramente si aspettava, o meglio le previsioni, era il 60% di persone al momento del lancio come previsione che l'avrebbero potuto utilizzare in Italia. E siamo anche molto al di sotto di quel 15% ritenuto sufficiente dai ricercatori scientifici, da coloro che hanno studiato questi modelli, chiaramente anche dall'Università di Oxford. Perché? Perché insomma siamo messi male, unica provincia, la provincia di Bolzano con il 15,1% ma insomma gli altri dati sono veramente tristi. Il 10% in Lombardia, tra l'altro una delle regioni che ha avuto più casi, il 13,3% in Emilia Romagna e se andiamo al sud la Sicilia solo il 5% degli amici siciliani l'hanno scaricata e la stanno utilizzando. Insomma una media nel sud è bene anche al di sotto del 10%, la Puglia è l'8, il Molise è il 7, insomma c'è un po' di delusione da questo punto di vista. I risultati non sono quelli sperati, i motivi direi che li abbiamo visti sotto l'occhio di tutti, la maggior parte delle persone ha provato a utilizzarlo ma non ha capito che in realtà non c'era alcun problema di privacy. Sì perché appunto i dati sono in anonimo e tra l'altro non manda nessun dato, non manda solamente un alert e poi chiaramente scuse sul cellulare e via dicendo. Insomma un popolo a questo punto direi il nostro molto 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 triste da questo punto di vista. Non va molto meglio in tutto il resto d'Europa ma c'è una consepolezza chiaramente diversa. Mancano 3 milioni di persone, di italiani per arrivarci a questo 15%. Quindi ragioniamo dal nostro punto di vista da professionisti imprenditori il perché c'è questo gap culturale, l'utilizzo di un'applicazione anonima senza il controllo, senza andare nel mondo dei fake news, del 5G che provoca il covid o dei negazionisti. Qua stiamo parlando di persone normali, di lavoratori che in realtà non vogliono utilizzare questa applicazione. Ora io credo che semplicemente il problema sia nella sfiducia totale nei mezzi di comunicazione e una paura quindi una ignoranza nel mondo digitale per quanto riguarda l'applicazione. Sempre dimenticando, e questo ricordo, che è molto più pericoloso per privacy, dati personali e non soltanto scaricare uno di quei mille giochi gratuiti che trovate sul cellulare rispetto ad un'applicazione come Immuni che invece serve. Forza, uniamoci e facciamola scaricare. Con questo concludiamo il caffettino di oggi, muoviamoci, diamo la possibilità di fare un qualcosa tutti insieme, scarichiamo Immuni e anche aggiungetevi al canale Telegram Mario Moroni canale, ne discutiamo lì oppure su nostra community mariomoroni.it. Fate i bravi, mangiate le verdure, a domani mattina.